Da un caldo giorno di luglio del 1976, quando scoppiò il caso Seveso e gli avvelenamenti di un intero paese, al glifosato, alle presenze che troviamo nei giorni nostri, la storia dei pesticidi è un filo rosso, è il filo rosso una storia di bugie e conflitti di interesse, elementi sufficienti in realtà per fare un buon noir, un giallo, ma che invece messi in fila rendono la foto di un triste business fatto sulla nostra pelle. Dace oggi il nostro veleno quotidiano che trovate a 14,50 euro, per avere la consegna veloce e per avere anche la copia digitale, da leggere subito, quando volete, quante volte volete, un libro che vi accompagna in questo noir, in questo che sembra davvero un romanzo e purtroppo è la verità di quanto ci è accaduto in questi decenni e cerca di offrire una soluzione, cerca di spiegare come ci si può difendere, come si può difendere la propria salute e quella dei propri cari a tavola. Un libro che viaggia anche, e non poteva essere altrimenti, tra gli scaffali dei supermercati, tra tutte quelle etichette che fanno riferimento al green, all'ambiente, alla salute e che spesso invece nascondono delle menzogne grandi come case. Molto di quello che mangiamo e che troviamo in tavola e che compriamo nei supermercati viene spesso tinto con il tricolore e quindi viene associato a una produzione più sana, più rispettosa dell'ambiente, ma soprattutto della nostra salute. È veramente così o stanno cercando di confonderci? Esiste una via d'uscita, esiste un modo per portare in tavola qualcosa che non faccia crescere le nostre ansie e soprattutto che non ci avveleni? Ecco, questo è quanto cerchiamo di raccontare nel libro Dacci oggi il nostro veleno quotidiano. E siamo così certi che questo libro vi interesserà che il nostro editore ha deciso di varare la formula soddisfatti o rimborsati. Se dopo averlo comprato e dopo averlo letto entro 60 giorni deciderete che il libro non vale i vostri soldi, il salvagente ve li ridarà indietro.